Musica Signori e signori buongiorno, benvenuti alla Palameucci di Aprilia in occasione della partita del girone A Under 21 regionale tra Eagles Aprilia e United Aprilia Calcio all'inizio della partita, comunque stanno giocando con ordine i ragazzi di ambedue squadre stanno giocando con ordine e tranquillità Ottima iniziativa del numero 13 Pacchiarotti Ottima l'iniziativa rimessa da fallo laterale Schema da fallo laterale e rete del numero 5 Zucchi Veramente ben fatto ed effettuato lo schema di rimessa da fallo laterale da parte dei ragazzi dell'Eagles Parte in iniziativa personale Paccareccia l'immediato pareggio L'immediato pareggio del United Aprilia Fa ripartire i ragazzi di Mister Trobiani In bucata centrale ha perso il numero 14 e salvataggio sulla linea Intervento del portiere dell'Eagles Aprilia, Torre Seconda realizzazione al minuto 8 e 19 Dello United Aprilia che si porta in vantaggio sempre con il numero 13 Pacchiarotti Tentativo da parte del numero 5 E rete da parte del numero 5 dello United Salmeri Tentativo di intercettamento da parte dell'Eagles con palla persa Intervento di transizione veloce, occasione fallita C'è stato il tiro di Tetti e quarto gol sempre di Tetti al minuto 19 e 20 Fischio dell'arbitro, tiro e parata del portiere Riparte lo United, ottima azione con conclusione che si va a stampare sull'incrocio esterno dei pali Chiamato lo schema, conclusione in porta, Murata da Iello Anche se non... Azione pericolosa dall'altra parte su rimessa lunga del portiere Dello United intercettata dal portiere Torri Ottima azione in questo caso di todisco dell'Eagles E quinto gol da parte di Pacchiarotti, sempre lui Molto buono il movimento del numero 13 Pacchiarotti Veramente un ottimo giocatore in bucata centrale verso Magate e sesto gol E sesto gol da parte dell'Unione di Tepriglia Ottimo tentativo sul fallo laterale del numero 10 totisco Manovra Rischio autogol da parte del numero 14 Schema con tiro di todisco e palla che termina sul fondo Battuto dal numero 14 De Santis, palla in mezzo da parte del numero 10 Tiro ribattuto Un Pacchiarotti che protegge la palla e dà inizio alla manovra Da giramento alla difesa schierata con tentativo al minuto 6 e 20 Ottimo, ottimo, già ottima giocata del numero 14 De Santis Un tiro sul seguente da parte del numero 8 Del numero 8 Zucchi Schema da calcio d'angolo e rete Settima rete al minuto 10 Nella manovra di gioco di Se non altro recuperare in parte il risultato Ottima azione da calcio d'angolo Schema da calcio d'angolo Stiamo cercando di riacquistare coraggio Anche se a questo punto c'è stato un intercetto della palla Con un ottimo recupero di Zucchi Davanti alla porta, ottima parada di Torri Intercetto dello United E' ottima parada di Torri L'azione d'avvicinamento alla porta da parte dello United Schema da calcio d'angolo Ottimo schema da calcio d'angolo Raggiunto rapidamente il bonus dei 5 palli da parte dei ragazzi Tiro e rete E rete di Tetti Situazione di riteggio che si folte enormemente pesante per i ragazzi dell'Igolz Che questa volta ripartono Seconda rete Al minuto 21 e 13 della Eagles Palla quasi persa dal numero 8 Intercetto palo dell'Igolz E terza rete E terza rete Fischio che sembra essere quello buono adesso Rincorsa tiro Palla fuori Riparta l'azione dell'Igolz dal portiere Torre Intercettata dal numero 2 Detti Passaggio laterale verso il numero 14 Occasione Fischio dell'arbitro Rincorsa tiro Parata di Busti Andesimo intercetto da parte di Tetti Passaggio laterale E tiro sballato di Miele Termina la partita Col punteggio di 8 a 3 A favore dello United Un saluto e un ringraziamento a tutti quanti da parte di Angelo Stampador Grazie a tutti